Siamo a casa di Manuel Senni, giovane talento del ciclismo romagnolo. Manuel, la stagione 2017 ormai è la conclusione, ci puoi fare già un bilancio su quanto è accaduto? Sì, quest'anno la stagione è iniziata molto bene per me, la Vuelta Valenciana. Ho portato a casa la maglia bianca dei giovani e ho vestito per un giorno la maglia di leader della generale. Poi tante corse a disposizione della squadra, fino alle gare negli Stati Uniti, in Utah. Mi sono cavato belle soddisfazioni, poi la vittoria in Colorado. Adesso mancano il Giro dell'Emilia e il Giro di Lombardia, vediamo cosa si può fare in queste gare. Parla a proposito, negli Stati Uniti, cosa è successo in Colorado questa grande vittoria? La terza tappa, quella più dura, ero avanti in generale, quindi ho attaccato e sono riuscito a ottenere una grande vittoria nella classifica generale. Pochi giorni fa, qui a casa tua, hai il Memorial Marco Pantani? Sì, quest'anno ho vestito un paio di volte la maglia nazionale, alla Coppio Bartali, al Giro dell'Appennino e anche al Memorial Pantani. Mi sono messo a disposizione di Davide Cassani, poi ho finito la gara nel gruppo dietro. La stagione sta per concludersi, guardiamo al 2018, qual è il tuo obiettivo? Ma il 2018 adesso dobbiamo prima vedere per la partecipazione al Giro d'Italia, sicuramente se parteciperemo quello sarà il mio grande obiettivo. Grazie. 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 Grazie.